Molinari, ma quanto mi ha fatto aspettare? Buongiorno! È arrivato col mazzo di rose almeno? Eh, non c'è problema. Col mazzo di rose? Eh, per me che ho aspettato tutto sto tempo per rivederla. Ah no, scusi, pensavo parlassi di quando ho ascoltato il professor Bassetti. Accidenti, no, anche perché sono a casa, la prima volta che vengo in studio. Eh, infatti bravo, devi venire in studio infatti la prossima volta. L'aspetto. Eh, ma sono a casa col covid, quindi non potrei anche volerlo. Oh Gesù! Vabbè, niente di grave però. Sto benissimo, sto benissimo. Lei tanto è trivaccinato come me, quindi non le capita niente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, ok. Vedo, tra l'altro, Sebastiano Barisoni già collegato con noi da una terrazza meravigliosa. Complimenti Barisoni. Ciao Mirta, grazie. Ciao Mirta. Eh, vi...